crime collezione donna primavera estate 2014 codice articolo cr2438b variante colore white si tratta di una sneakers stringata con la tomaia bianca in tela effetto cerato sono presenti dei micro inserti in pelle una toppa sul tallone posteriore guardiamo la forma il logo è in metallo applicato sulla linguetta la chiusura è con zip internamente la fodera è in tessuto e il plantare è completamente rivestito in pelle concludo precisando che la suola è in gomma con un leggero effetto vintage ed è molto flessibile